Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Agosto sta per volgere al termine ed anche in casa Rai si organizza un nuovo palinsesto Secondo rumors recenti però, alcune scelte non sarebbero affatto piaciute ai telespettatori Si vocifera infatti che alcune delle soap più amate, potrebbero subire uno stop Ma quali sono le fiction che potrebbero subire delle modifiche? Rai, nuovo palinsesto in arrivo, ecco cosa potrebbe cambiare.Il palinsesto di casa Rai ha subito delle modificazioni in vista della bella e calda stagione come di consueto avviene ogni anno Ora che settembre è alle porte, si vocifera che potrebbero essere apportate delle novità ulteriori per la prossima stagione televisiva 2022 fratto 2023 Sono bastate queste indiscrezioni per far allarmare i fan di Don Matteo Infatti si vocifera che la soap potrebbe essere sospesa e subir dunque una battuta d'arresto per lasciare spazio alla nuova programmazione Una medesima paura affligge anche il pubblico di sei sorelle che verrà sostituito con il paradiso delle signore Il palinsesto Rai subirà delle modifiche, stoppa a Don Matteo, ecco i programmi che andranno in onda Stando alle anticipazioni circolanti in rete, le prime novità potrebbero essere apportate da lunedì 5 settembre Previsto dunque lo stop per la messa in onda delle repliche di Don Matteo in onda dalle ore 14, scelta che ha mandato i fan della serie su tutte le furie Di fatto anche se si tratta degli episodi delle scorse stagioni, i telespettatori l'hanno seguiti con estremo interesse Non a casa si è sfiorato il 15% di share per ogni episodio Ma ora l'amatissima soap Don Matteo, chiude i battenti, almeno per la messa in onda delle repliche che ha coperto la fascia oraria solitamente occupata da Serena Bortone Si riprende dunque a pieno ritmo e con i programmi più amati dai telespettatori, tra cui oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16 Grande attesa anche per il talk condotto dal giornalista, Alberto Matano La vita in diretta, in onda dalle 17,05 alle 18,40 Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video